Allora salve a tutti, mi chiamo Romano Maria, sono la mamma e soltanto che oggi mi volevo presentare in veste di cantante. Io ho studiato l'erica e la musica e il canto soprattutto è stata sempre una bellissima parte della mia vita, solo che per ovvi motivi legati alla vita stessa ho dovuto lasciare, ho dovuto smettere appunto di cantare. Oggi invece mi volevo presentare appunto come cantante e vi volevo cantare Se, tratta da Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Moricone. Spero di esserne all'altezza e grazie. Se tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza qui, piena d'allegria. Io trovo dentro gli occhi tuoi egnano se magia o realtà. Se tu fossi nel mio cuore per il giorno, potresti avere un'idea di ciò che sento io. Quando mi abbracci fuori a te e petto a petto, noi respiriamo insieme. H favore di te Protagonista del tuo amor Non so se siamo già O realtà Se C'è Nella mia Pane O un giorno Sapresti Cosa sento In me Che mi innamorai Da quel Mestito insieme A te E ciò che provo È Solamente Amore 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 Solamente Amore 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 Amore